Eccolo! Benvenuti a tutti in questo nuovo vlog! Io sono Barbuto, ma non ho la Barbo. Oggi è un giorno speciale, come tutti i giorni che registriamo video. Perché oggi è il compleanno di Ussolo. Quindi voglio a fan tutti nei commenti che commentano hashtag, grazie e auguri Ussolo. Mi sono messo d'accordo con Lisa. Lisa è una ragazza che conosciamo da parecchio, quindi Ussolo non sospetterà di nulla. Quindi io adesso la vado a prendere. Per realizzare questo scherzo Ussolo, oggi ho chiesto aiuto a Lisa. Eccomi. Io praticamente ho detto che gli ho preparato una sorpresa per il suo compleanno. Però non troverà lei, troverà me con un Ferrarone. Secondo me apprezzerà, eh. Eh, adesso non vieni, Lisa, dove? Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ehi, buon compleanno, fratello. Ma io mi aspetta a prendere. Era tutto un complotto. No. Era un complotto, fratello. Giuro, franno, me lo sapevo. Io pensavo di trovare un po' subito, ma che cazzo ha fatto? Questo è il mio regalo di buon compleanno, fratello. Sacco volte. No, adesso è voluto. Io so che te fai gli scherzi di merda. Cosa ci hai messo? Non è voluto, bro. No, bro, ma che cazzo dici, fratello? Cos'è, cos'è? Io ti voglio merda. Cos'è? Ti voglio merda. Cos'è? Come cos'è? Cos'è? È una chiave? Di che macchina? Ferrari, fra... Cazzo dici. Bro. Tanti auguri. Allora, la sorpresa vera e propria te, aspetta me. No, 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 ma per me c'è, per me. Allora, ho trovato uno sluso. Ci pensa a fratellone, vieni. Per me è firma. No, giuro, è una macchina vera. Ed è una caralla. Ed è tutta tua. Adesso è scocata. Bro. Ti voglio bene, fratello. Però mi porto a fare un giro. Non è vero, fratello. Dai, bro. Dai, mi stai perdendo per il culo. Bro, allora, le chiave ce le hai? Andiamo ad aprirle. È tua, fratello. No, bro. Bro. È tua, bro. È tua, bro. È tua. È tua, bro. Che cazzo dici, bro. È tua, bro. Tanti auguri, bravo. Ho compleanno, bro. Merdo. Fatta roba. Woo. Cazzo dici? Gaglio. È tua, bro. È tua, bro. Bro, è tua. Che cazzo si accende, bro? Com'è, fratello? Com'è? Eh? Com'è, fratello? Dai, bro. Non piange, fratello. No, bro. Per favore, non piange. Fallo per me. No, 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 no. È la macchina dei tuoi sogni o no? Sta piangendo, raga. Sta piangendo. No, non piangere, per favore. Non piangere. Bro, eh? O non è la macchina dei tuoi sogni o cazzo? È o non lo è? Bello, eh? Però, mi dai le chiavi che devo andare, fatto quello che devi fare. Sì, sì, sì. Ce l'ha lui. Eh, devo andare. Allora, dov'è? Allora, senti. Oh, su di merda. No, bro. No, non mi sei messo a piangere, raga, mi sto sentito troppo in culo, qua. Corso. Da-da! Ecco la tua Ferrari. Cazzo, lì. Questa sia la possibilità più bella che io abbia mai fatto. Proprio pezzo di merda, sapeva che era il regalo che io sento desiderato. Al giorno ci sono i nostri mani. Avete presente quando siete super contenti? Poi succede quella cosa che ti demoralizza. Pezzo di merda. Non lo farò pagare. Eccolo! Eccolo! Lui ovviamente è il proprietario della Ferrari. Quella vera. Grazie, bro. No, è stato uno scherzo assurdo. È rimasto un po' male, eh. Ma t'affanculo? È rimasto un po' male.